Il comune di Capaccio Pestum ha la sua prima casa dell'acqua. L'impianto installato in Piazza Santini a Capaccio Scalo è in grado di erogare a temperatura ambiente o refrigerata acqua naturale lievemente frizzante e frizzante. Soprattutto contribuisce a ridurre l'utilizzo dei contenitori di plastica come previsto dal programma Capaccio Pestum Città Plastic Free, avviato già da qualche mese dall'amministrazione comunale. Dopo quella di Piazza Santini, commenta il sindaco Franco Alfieri, altre case dell'acqua saranno presso installate sul nostro territorio comunale. Inoltre, a cominciare dalla prossima settimana, cominceremo a dotare le scuole di Capaccio Pestum di distributori dalle dimensioni più contenute, sempre con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle un po' alla volta bottiglie e contenitori di plastica. Per il consigliere comunale Giovanni Cirone, che per conto dell'amministrazione ha seguito l'iniziativa, oggi un'amministrazione locale non può sottrarsi alla responsabilità di contribuire alla riduzione dei materiali plastici e le case dell'acqua offrono un contributo concreto in questo senso. L'inaugurazione della Casa dell'Acqua di Piazza Santini è in programma per venerdì 31 gennaio alle ore 12.